Ciao raga, come state? Spero bene, io come potete notare qui dietro c'è qualcosa che non va Beh, beh, sono qui perché oggi devo fare la valigia Oddio, è molto confusa Eccomi, allora, siamo pronti per continuare Raga, alla fine ho deciso di portare anche un altro pigiama perché comunque i pigiami non sono mai abbastanza È vero che devo stare lì due notti, però io penso che i pigiami non siano mai abbastanza Quindi lo andiamo a mettere sotto Ecco qui Ok, ok, a livello di outfit stiamo proprio a posto Ah no raga, felpa, felpa necessaria Non troppo, però penso sia utile Quindi inseriamo nel caso magari facesse freddo Che ne so, la sera fa freddo, prendo, vabbè, prendo il blazer, metto la felpa Giulia, ho paura di non aver messo qualcosa Allora, ripetiamo Allora Allora Ascoltami Gli scherzi struccanti Messi Pazzoletti Messi Poi, trucchi, li metti Deodorante, spazzolino, dentifricio Ok raga, allora, ho terminato, devo solo inserire tutte le buste Ora le metto Come sto riprendo, non lo fa nemmeno io Raga, non ci credo che è arrivato questo momento, vi giuro È stata la valigia più fatigosa di tutta la mia vita Perché l'ho fatta da sola E quindi è stato troppo un problema Ecco Ho fatto Marghe è pronta per andare Dove? Scopritelo Allora